Siamo con Vincenzo Amari e Niccolò Lattanzi, rispettivamente presidente e direttore sportivo di questa Monini Marconi, una coppia che ormai è insieme da tanti anni a soffrire, a costruire la squadra, a gioire e stasera c'è veramente motivo di gioire. Cominciamo dalla presidente Vincenzo Amari, non è un sogno, è tutto vero presidente, siamo in finale. Siamo in finale, sì è vero, però dobbiamo stare tranquilli, come sempre, come queste partite, perché ancora non abbiamo vinto nulla, però queste play-off di semifinali sono state la vittoria di Spoleto, volevo dedicare questa vittoria alla città di Spoleto, perché si merita una finale del genere, il pubblico è il settimo uomo in campo, ringraziare tutti i tifosi e la città di Spoleto che ci ha seguito in maniera esemplare. Ringrazio tutti i giocatori, lo staffe tecnico, il direttore sportivo, il team manager e tutti coloro che hanno collaborato per questa splendida vittoria. Andiamo in finale, ce la giocheremo, vedremo con chi e forza Spoleto. Grazie presidente, la bellissima dedica all'intera città di Spoleto, ora tocca al DS Niccolò Lattanzi, si è parlato tanto di obiettivi, questa squadra poteva arrivare tra le prime cinque, poi forse poteva fare una buona pool promozione, poi forse poteva arrivare playoff, poi forse poteva superare il primo turno e ora siamo in finale. Quali sono le sensazioni dopo questa grandissima impresa? Sì, ce l'abbiamo fatta e hai detto bene, è stata un'impresa. Sicuramente devo veramente fare i complimenti a tutti i giocatori e a tutti quelli che lavorano anche dietro le quinte perché è funzionato tutto alla perfezione e non solo oggi. È da inizio anno che mettiamo mattone dopo mattone e se siamo arrivati a questo punto è veramente per merito di tutti perché da soli non ce l'avremo mai fatta. Quindi io, come ha detto il presidente Vincenza, ringrazio la città di Spoleto perché avete visto oggi cosa hanno fatto e cosa è stato il palazzetto. Tornando agli obiettivi, adesso onestamente non ce li poniamo più ovviamente, adesso giochiamo partita dopo partita, siamo arrivati fin qua e non vogliamo di certo mollare in questo momento. Grazie al direttore sportivo Niccolò Lattanzi, grazie alla presidente Vincenza Mari, allora l'appuntamento è per la finale. Speriamo, per le due partite o tre che ci saranno al Palarota, sempre così speriamo. Esattamente così, un appuntamento da parte anche del DS. Sì, continuate a venire così numerosi e in bocca al lupo a noi a questo punto. Grazie.